Buongiorno, benvenuti all'ambiente di oggi, sempre nel progetto fatto per l'ambito B, parleremo anche oggi di transizione amministrativa e nello specifico parleremo della conferenza di servizi, che è il secondo appuntamento dopo quello del 19 di marzo, oggi il nostro poca salva, affronterà la conferenza di servizi, parlando anche di casi complessi, oltre a continuare a presentare l'etituto della conferenza di servizi. Vi invito a scrivere in chat le vostre domande, vi invito a portare anche il contributo alla riflessione, quindi scrivendo anche delle osservazioni o portando all'attenzione del relatore dei casi pratici delle realtà quotidiane e vi ricordo che la registrazione e i materiali saranno disponibili sulla pagina di territorio in rete dedicata a Fattamento FI e vi verrà segnalato via mail la pubblicazione dei materiali e del link alla registrazione. Non togliamo tempo alla presentazione, vi invito a porre domande per contribuire al lavoro della registrazione e passo la parola al gestore Cacalpa. Grazie, buongiorno. Allora, riduco la mia vista, perfetto. Quindi come è stato detto prima, oggi parleremo dopo aver discusso, dopo aver tratteggiato gli elementi essenziali della conferenza in forma semplificata asincrona, oggi tratteremo invece la conferenza ai servizi cosiddetta asincrona o in presenza o anche contestuale, perché appunto è quella che vede come era di regola prima fino al 2017, prevede la necessità di una riunione contestuale, anche se oggi può essere fatta naturalmente in modalità telematica, ma sempre in maniera contestuale. Perché parliamo di atipicità? Perché, come dicevamo nel primo incontro, oggi ai sensi degli articoli 14 e 14 bis della 241, la conferenza che va in detta è quella di norma, è quella semplificata in forma asincrona, quindi senza necessità di una riunione, mentre questo è un tipico, cioè eccezionale, la conferenza ai servizi, ripeto, in forma contestuale. Tratteremo alcuni casi complessi, in una slide tratteremo quali possono essere i casi complessi che rendono necessaria la convocazione fin da subito di una conferenza dei servizi in forma contestuale, tratteremo anche il titolo secondo del decreto legislativo 127 che prevede il raccordo tra la normativa generale della conferenza dei servizi, quindi tra gli articoli 14 e seguenti della 241 e alcune normative speciali, tra cui il DPR 380 per quanto riguarda l'edilizia, il decreto 59 del 2013 per l'AUA, il DPR 160 del 2010 per il procedimento unico di SUAP, eccetera. Quindi tratteremo anche questi aspetti qui e poi infine alcune slide saranno dedicate a argomenti sempre molto interessanti, su cui spesso veniamo per fare confusione, cioè i principali istituti di ritiro dell'atto amministrativo, quindi l'annullamento e la revoca, quindi meglio avrei dovuto scrivere revoca e annullamento perché nella 241 prima viene disciplinata la revoca all'articolo 21.5 e poi l'annullamento con l'articolo 21.9 dove vedremo anche alcune sentenze di tar e consiglio di Stato. Allora partiamo subito, eccoci qua, ok. Quindi parliamo subito della conferenza dei servizi in forma contestuale. Abbiamo detto la regola, ripetiamo ancora una volta, è quella della conferenza in forma semplificata, asincrona, questa è l'eccezione invece, la conferenza in forma contestuale. Quando viene convocata fondamentalmente la conferenza in modalità classica, diciamo, quindi con una riunione contestuale, in alcuni casi che vedete elencati in questa slide, cioè quando nel corso della conferenza sono stati, dalla conferenza semplificata, sono stati acquisiti atto di assenso o di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali al progetto. Questo è quello che prevede testualmente l'articolo 14 bis comma 6 della legge 241, che vuol dire, abbiamo visto nell'altro incontro che quando acquisisco atti di assenso pacifici, insomma, non condizionati o con condizioni, prescrizioni che il responsabile del procedimento ritiene di poter in qualche modo inserire all'interno del provvedimento finale, in quel caso procedo alla chiusura della conferenza e a una determinazione motivata con esito positivo, quindi con esito favorevole. Al contrario, se ho atti di dissenso basati sulla radicale contrarietà del progetto alla norme imperative di legge o quant'altro, avrò la necessità come responsabile del procedimento di procedere a una determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza, che vi ricordo deve essere fatta la prima volta non in maniera definitiva, ma scrivendo, cioè deve valere ai sensi dell'articolo 10 bis, quindi deve valere come comunicazione dei motivi ostativi. Vi ricordate, l'abbiamo detto l'altro giorno, non è possibile chiudere un procedimento senza aver ascoltato o almeno senza aver messo il privato, l'interessato in condizioni di dire la sua, ecco perché quando c'è una conferenza semplificata, la prima determina motivata di conclusione negativa della conferenza non deve essere tombale, non ci deve essere il famoso inciso verso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso al Tare entro 60 giorni o al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120, ma deve valere soltanto come comunicazione dei motivi ostativi, proprio perché dobbiamo mettere in condizione l'interessato di controedurre e di dirci la sua. Solo in questo modo, ci ricorda la giurisprudenza, si concreta il principio del giusto procedimento, quindi del procedimento in cui c'è stato anche l'apporto collaborativo del privato, dell'interessato. Fuori da questi casi limite, appunto c'è questa zona grigia, quindi atti di assenso o anche atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali al progetto, perché il legislatore ha ritenuto che in questo caso vada convocata una conferenza in forma contestuale? Perché in questi casi con modifiche sostanziali il responsabile del procedimento si rende conto che non è possibile chiedere a un ente, chiedere al privato di modificare in maniera sostanziale il progetto perché altrimenti c'è il rischio che eventualmente un parere favorevole dato da un altro ente potrebbe non essere più favorevole, cioè il progetto cambiato radicalmente potrebbe richiedere a sua volta ulteriori aggiustamenti da parte di enti che avevano già dato il proprio parere favorevole, quindi si innesta un circolo vizioso da cui si rischia di non uscire più. Ecco perché in questo caso il legislatore a mio avviso correttamente ha ritenuto necessario la convocazione in forma contestuale della conferenza, proprio perché in questo caso si esaminano in maniera sinergica, sinottica, se vogliamo dire, volendo usare un termine grafico diciamo così, quindi eventualmente lo stesso progetto viene presentato con gli opportuni accorgimenti agli essessienti e se ne discute nell'ambito della conferenza. Vi ricordo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, che fino al 31 dicembre di quest'anno è stato prorogato il termine previsto come transitorio, ma che ormai già da diversi anni viene prorogato, il termine previsto dal decreto legge 77 del 2021, che prevede che si deve tenere un'unica riunione telematica della conferenza, quindi una volta convocata in modalità contestuale, in modalità sincrona, quindi si fa non solo una sola riunione telematica e in esito a questa riunione poi ci sarà la determinazione finale che sarà ovviamente motivatamente con esito appavorevole o motivatamente con esito negativo. Quindi questo è il primo caso, quindi ripeto, atti di assenso o di distenso con condizioni o prescrizioni sostanziali nell'ambito di una precedente conferenza semplificata. Il secondo caso è interessante perché potete applicarlo fin da subito, infatti la norma lo dice anche d'ufficio quando il responsabile del procedimento ravvisi una particolare complessità della decisione da assumere. Oppure, se andate in fondo alla slide, l'ultimo punto, su richiesta motivata dell'interessato o di un ente partecipante durante i 15 giorni concessi per l'eventuale richiesta di integrazione. Vi ricordate che l'abbiamo visto la settimana, due settimane fa quando abbiamo fatto il primo webinar, ai sensi dell'articolo 14 bis, è possibile nei 15 giorni formulare richieste di integrazione documentale all'autorità procedente, non solo ma è possibile anche chiedere all'autorità procedente motivatamente di convocare la conferenza in forma contestuale. Perché? Perché evidentemente si ravvisa o nel primo caso da parte del responsabile del procedimento, nel secondo caso da parte di un ente invitato o dello stesso interessato, si ravvisa una particolare complessità, poi dopo vedremo quali sono degli esempi di casi complessi, che rendono necessario fin da subito l'indizione della conferenza in modalità sincrona in modalità contestuale. Proprio per abbreviare i termini, perché c'è la percezione, la sensazione che una conferenza in forma semplificata potrebbe comunque determinare poi la necessità che abbiamo visto prima, quindi con atti di dissenso o di assenso non chiari, non tombali, quindi per evitare di allungare i termini, da subito si convoca la conferenza con modalità contestuale. L'altro caso ancora è il caso di progetto sottoposto alla via regionale con la valutazione di impatto ambientale regionale, il cosiddetto provvedimento autorizzatorio unico regionale, un acronimo quanto mai significativo, POWER, quindi un procedimento veramente corposo e complesso dentro cui ci sono tutte le, anche qua c'è stata una novella del 2017 che ha riguardato il codice dell'ambiente, il deretto 152 del 2006, è stato introdotto appunto questo articolo 27 bis che è la via, la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, là dove invece l'articolo 27 prevedeva e prevede ancora la via di competenza statale. Ne parla anche l'articolo 14,4 della legge 241, quindi è un'ipotesi particolare, diciamo tematica, settoriale, quindi ogni qualvolta deve essere convocata evidentemente dalla regione o eventualmente da enti delegati il procedimento per la valutazione di impatto ambientale, si deve fare necessariamente, si deve tenere necessariamente una conferenza in forma sincrona e contestuale. Un'ultima ipotesi, anche questa prevista dalla legge 241 dell'articolo 14,3 in particolare, si ha, lo vedremo meglio in una slide successiva, quando mi avvalgo della possibilità di chiedere una conferenza di servizi preliminare e in esito alla conferenza preliminare presento il progetto definitivo, quindi sulla base delle indicazioni che mi sono state date nella conferenza preliminare presento il progetto definitivo, a quel punto c'è l'obbligo per il responsabile del procedimento di convocare la conferenza sin da subito in modalità asincrona e contestuale. Vediamo allora quali sono, riprendendo il ragionamento di prima, quali sono i casi di particolare complessità. Abbiamo detto uno dei, insomma, dei casi che possono indurre, non è obbligatorio, ma possono indurre il responsabile o anche un ente invitato, anche l'interessato, a chiedere la convocazione di questo tipo di conferenze. Ecco, dei casi che si ravvisano nella prassi, ad esempio quando si tratta, soprattutto per i suoi, gli sportelli unici per l'edilizia, impianti di distribuzione carburanti, si tratta, come sapete, di pratiche complesse che richiedono, che involgono la competenza di vari enti terzi, tra cui il comando provinciale di vigili del fuoco, sicuramente l'ente proprietario della strada e sicuramente l'ufficio tecnico il suo e del comune, insomma, per tutto l'aspetto legato al permesso di costruire e l'aspetto annonario naturalmente legato alla distribuzione carburanti e quant'altro. Quindi ci sono eventuali naturalmente vincoli che possono essere paesaggistici, eccetera, che vanno, che devono essere valutati dall'ente di tutela di quei vincoli, eccetera. Quindi questo è sicuramente uno di quei casi che possono, nella prassi, portano alla convocazione della conferenza di servizi in forma contestuale, ma tutti questi casi hanno visto anche nella pratica, io ne ho visti per tutti questi esempi vi posso dire che tranquillamente si fanno anche conferenze in forma semplificata, però possono dare luogo alla convocazione di conferenze anche in forma contestuale. Gli altri esempi sono le medie e le grandi strutture di vendita, sono ovviamente anche qua casi complessi, per la grande struttura, come si vede, la necessità di una conferenza l'abbiamo fin dal 1998 con il decreto Bersani, il 114. Quindi anche qui abbiamo tutta una serie di enti che dobbiamo invitare, per i quali dobbiamo acquisire il parere. Un'altra tipologia di procedimenti per i quali ho visto in passato più volte la necessità di convocazione fin da subito di conferenze di servizi in forma contestuale, ma vi ripeto anche qua nella prassi a volte capita che invece si risolva tutto tramite una conferenza semplificata. I locali per trattenimenti danzanti, spettacoli musicali, arte varia, come sapete qui è una materia molto delicata che riguarda il TULPS, il testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, quindi in particolare le autorizzazioni esenze degli articoli 68 e 80 del TULPS, quindi c'è la materia dell'agibilità, non agibilità edilizia, ma agibilità ai fini del TULPS, la cui mancanza non dell'articolo 68 dell'articolo 80 comporta conseguenze anche di carattere penale per l'esercente e sicuramente anche qui ci sono aspetti legati alla commissione di vigilanza, quindi vigili del fuoco, ASL e quant'altro, e sicuramente sono pratiche complesse. Così come una pratica complessa può essere nonostante sia soggettata a scia, secondo la modulistica unificata, è quello per esempio di strutture alberghiere, anche qua può esserci la necessità di coinvolgere la competenza di più enti, sapete che da poco è cambiata anche la normativa di prevenzione di incendi per gli alberghi, ci sono varie fattispecie che possono rientrare non soltanto nella struttura alberghiere in quanto tale, ma magari servizi a valore aggiunto per la clientela o anche per il pubblico, quali possono essere la piscina, centri estetici, spa e quant'altro, ristoranti che richiedono la necessità eventualmente anche di attivare il procedimento di scia condizionata. Noi in questi webinar non ne abbiamo parlati, ma è un argomento molto interessante quello della scia, in particolare della scia condizionata, quella prevista dal comma 3 dell'articolo 19 bis, anche questo introdotto in questa tornata di riforme della legge Madie, dal 2015 in poi, e la scia condizionata è di fatto un vero e proprio procedimento autorizzatorio, semplicemente il vantaggio per il privato è che si presenta una scia al suo app, il cui esito, però la cui efficacia è condizionata al positivo espletamento di una conferenza di servizi, come prevede il comma 3 dell'articolo 19 bis, quindi soltanto una volta chiusa la conferenza o il procedimento autorizzatorio si ha il dispiegamento dell'efficacia della scia, ecco perché si chiama scia condizionata, che è uno dei regimi abilitativi poi previsti anche dalla tabella legata al decreto legislativo 222 del 2016, come sapete. Come abbiamo detto prima, la convocazione della conferenza può essere o rilevata d'ufficio o dallo stesso... ovviamente io qui abbiamo messo quattro casi, ma immaginate ne mille, insomma me ne potete citare anche voi alcuni, se volete dopo ci possiamo ragionare insieme, ce ne sono tanti di casi che possono chiedere e richiedere la necessità di una convocazione. Ovviamente è sempre, lo dico sempre, è sempre bene motivare, visto che la regola è quella della conferenza in forma semplificata e asincrona, è sempre meglio motivare questa complessità, non basta dire si tratta di una struttura, che ne so, di una media struttura di vendita e quindi è complessa e quindi convoca no, magari entriamo nello specifico del perché ravvisiamo questa complessità, anche per evitare insomma problemi, soprattutto con gli enti terzi che dovranno in qualche modo partecipare fino a... per ora in maniera telematica, ma in domani potrebbero anche essere costretti poi a venire, a recarsi nei nostri uffici, quindi due righe di motivazioni non guastano mai. Come vi dicevo, la convocazione può essere rilevata dallo stesso ufficio procedente, oppure anche dall'interessato o da un ente partecipante, nei 15 giorni concessi per l'eventuale richiesta di integrazione. Ancora, dicevamo prima, uno dei casi in cui è necessario convocare la conferenza in forma contestuale e sincrona e quello che si ha quando presento un progetto definitivo dopo la conclusione della conferenza preliminare. Questo è il procedimento delineato dal comma 3 dell'articolo 14 della 241. In sostanza cosa dice la norma? Un approccio a mio avviso molto utile, poco utilizzato, cioè quello che mira a rendere la pubblica amministrazione non soltanto giudice che alza la paletta e dice lo puoi fare, non lo puoi fare, parere favorevole, parere contrarie, ma che ti dice in maniera collaborativa in una sorta di pre-istruttoria quali sono i vincoli, quali sono le necessità, quali sono gli standard e quant'altro affinché tu, presentando il progetto definitivo, possa avere poi luce verde nel vero e proprio, quando si attiva, il vero e proprio procedimento autorizzatorio. Infatti la norma dice per progetti di particolare complessità e progetti di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione su motivata richiesta dell'interessato corredato da uno studio di fattibilità può indire, questo è importante perché ho voluto sottolineare può indire, una conferenza preliminare, perché qui è facoltativa, quindi non c'è nessun obbligo per l'amministrazione compulsata, ma è una potestà, diciamo, io posso scegliere se convocare questa conferenza o meglio non convocare indire, perché poi come vediamo subito si tratta di una conferenza che va tenuta in modalità asincrona questa preliminare, quindi può indire una conferenza preliminare, ma può anche non indirla, quindi ci sarà ovviamente un apprezzamento discrezionale da parte del responsabile del procedimento che dovrà valutare appunto la necessità, l'opportunità, la convenienza di questa indizione. Quindi il responsabile può indire una conferenza preliminare finalizzata a che cosa? Non a dare un sì e un no, come in tutte le conferenze dei servizi così detti e decisorie, ma a indicare il richiedente prima della presentazione di un'istanza o prima della presentazione del progetto definitivo, quali sono le condizioni per ottenere alla loro presentazione i pareri, intese, concerti, nulla, osta, autorizzazioni, bla bla, atti di assenso comunque denominati. Ok? Quindi non ti sto dicendo se lo puoi fare o non lo puoi fare, ti sto dicendo quali sono le condizioni che devi rispettare una volta che presenti la domanda per e proprio il progetto definitivo per avere poi l'atto di assenso finale. La conferenza preliminare va indetta entro i cinque giorni lavorativi della ricezione della richiesta, sono sempre lavorativi quando si tratta di un'istanza presentata alla pubblica amministrazione. La conferenza preliminare si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 14 bis, dice il comma 3 dell'articolo 14, e quindi si tratta di una conferenza asincrona con termini che possono essere abbreviati fino alla metà. Quindi tutti quei termini che abbiamo visto di 45, 90 giorni, eccetera, possono essere abbreviati fino alla metà. Il parere viene espresso dagli enti invitati sulla base della documentazione prodotta dall'interessato, quindi questo è quello che prevede il comma 3. La parte più interessante della conferenza preliminare è che io ritengo che sia in questa slide, cioè dopo la conclusione della conferenza preliminare, quindi la conferenza non si chiude con una determinazione motivata, favorevole o negativa come invece la conferenza decisore, si chiude con una sorta di ricognizione sulla base delle carte presentate, o meglio dei file presentati dall'interessato, sulla base quali sono le condizioni, i criteri, i parametri, i vincoli per poter presentare con successo il progetto definitivo o l'istanza di autorizzazione. Quindi così si chiude la conferenza preliminare. Quindi dopo la conclusione della conferenza, una volta che poi l'autorità procedente riceve l'istanza o il progetto definitivo, indice, come dicevamo l'altra volta, l'indicativo presente nasconde sempre nelle nostre leggi, nasconde un ausiliare, l'ausiliare dovere. Cioè dove leggete indice vuol dire deve indire, non vuol dire può indire. Quando il legislatore vuol dire può, come abbiamo visto prima nel comma 3 dell'articolo 14, lo dice chiaramente, quindi può indire. In questo caso indice, quindi è obbligatoria l'indizione di una conferenza simultanea nei termini e con le modalità previste dal 14 bis comma 7 e 14 ter e, questo è l'aspetto più interessante, perciò ve l'ho voluto sottolineare, una volta indetta la conferenza simultanea, quindi una volta avviata la conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento, anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è vero che la conferenza preliminare non è una conferenza, come dire, vincolante nel senso che deve dare un atto di assenza o un rigetto a un'istanza presentata dal privato, però è anche vero che io non sono libero di cambiare idea, io come ente che rilascio al parere, non sono libero di cambiare idea a mio piacimento, quindi se nonostante il privato abbia adempiuto, ma appaia adempiuto in maniera fedele, in maniera puntuale alle mie richieste, alle mie osservazioni formulate in sede di conferenza preliminare, io non sono libero di ribaltare il mio parere, non dargli l'atto di assenso, il parere favorevole in sede di conferenza decisoria. Quello sarebbe un parere viziato da eccesso di potere, per contraddittorietà e illogicità del comportamento dell'APA e quindi in quanto tale sarebbe aggredibile davanti al TAR. Evidentemente non il parere, ma la determinazione conclusiva finale motivata con esito negativo che incorpora in qualche modo quel parere, perché ricordiamoci che i ricorsi al TAR si fanno sempre sugli atti che hanno efficacia lesiva, quindi è chiaro che a essere impugnata sarà la determinazione finale con esito negativo del responsabile del procedimento, ma sempre nella parte in cui chiaramente incorpora un parere che si assume essere viziato. Quindi questo è lo scenario, il quadro che delinea il combinato disposto tra l'articolo 14,3 e gli articoli successivi, in particolare il 14 TAR, che vuol dire questo? Quali sono gli elementi significativi emersi nel successivo procedimento? E magari è cambiata la normativa, magari nel rispetto a quando avevo dato le mie indicazioni in sede di conferenza preliminare, dal punto di vista urbanistico è stato adottato un nuovo piano, quindi anche se non ha approvato, è stato adottato un nuovo piano, un piano urbanistico che ha fatto scattare delle norme di salvaguardia previste dalla legge urbanistica, che hanno reso il quadro, l'assetto regolatorio dal punto di vista urbanistico più restrittivo e quant'altro, ma certo non perché non avevo valutato sufficientemente tutti gli interessi pubblici dedotti nel progetto. Quindi è chiaro che bisogna stare attenti poi anche da questo punto di vista. Veniamo allora, quindi una volta chiariti quali sono i casi di attivazione della conferenza in forma contestuale, vediamo allora lo svolgimento. Per quanto riguarda lo svolgimento, dobbiamo distinguere, la prima riunione della conferenza, dobbiamo distinguere a seconda che si tratti di una conferenza che è nata direttamente in forma contestuale, ai sensi del comma 7, per i casi di particolare complessità, o perché il progetto è stato presentato, il progetto definitivo in esito a una conferenza preliminare, o se invece è stato responsabile del procedimento che ha trasformato, scusatemi il termine improprio, che ha trasformato la conferenza ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 bis da semplificata a contestuale per quei casi di pareri con prescrizioni e quant'altro. Nel caso in cui la conferenza, in quest'ultimo caso, quindi in cui la conferenza si è trasformata da semplificata a contestuale, la riunione si deve svolgere nella data già comunicata nella nota di indizione, ai sensi dell'articolo 14 bis comma 2 lettera D. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nello scorso webinar, dicendo che appunto un elemento indefettibile nelle note di indizione delle conferenze semplificate deve essere la data in cui io, responsabile del procedimento, mi riservo di tenere la riunione della conferenza contestuale laddove ci siano questo tipo di problematiche. Oppure la prima riunione si svolge nella data fissata quando, ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 bis, quando la conferenza nasce direttamente in forma contestuale. I lavori della conferenza simultanea. Se la conferenza simultanea è convocata a seguito di quella semplificata, quindi nasce, tra virgolette, sulle ceneri della conferenza semplificata che si è chiusa senza esito, allora in questo caso i lavori si chiudono sempre e comunque entro 45 giorni dalla data della prima riunione. Questo, ripeto, questa è la normativa generale e poi c'è, vi ricordo ancora una volta, c'è l'articolo 13 del decreto legge 77 del 2021 che prevede che fino al 31 dicembre del 2024, salvo ulteriori proroghe, ci deve essere un'unica riunione telematica in esito alla quale i responsabili del procedimento emana la determinazione finale e conclusiva. Ma questa invece è la normativa di carattere generalista e non temporanea, non transitoria. Quindi se la conferenza contestuale nasce sulle ceneri della conferenza semplificata, i lavori si concludono sempre e comunque entro 45 giorni dalla data della prima riunione. Se invece la conferenza simultanea viene indetta ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 bis, quindi nei casi di particolare complessità, quindi nasce già in maniera direttamente contestuale, l'ente procedente può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni, ma i lavori si concludono in questo caso entro 45 o 90 giorni dalla data della prima riunione. Che vuol dire entro 45 barra 90? Vuol dire che dipende in questo caso, vi ricordate, se il parere deve essere espresso da un ente preposto alla tutela degli interessi di rango costituzionale o meno, quelli che sono già previsti dell'articolo 14 bis o meno. Quindi se si tratta di una soprintendenza, di un'ASL e quant'altro, di un'autorità ambientale, il termine sarà di 90 giorni dalla data della prima riunione. Se invece il termine, se invece per esempio si deve esprimere il comune per quanto riguarda un aspetto edilizio, in quel caso il termine è commerciale o quello che sia il termine è 45 giorni. Ok? Quindi in questo caso c'è questa differenzazione. Perché? Perché direte voi c'è questa differenza? Perché nel primo caso ci sono 45 giorni per tutti e nel secondo caso i termini sono 45 o 90 dalla data della prima riunione. Il motivo è intuitivo, non è scritto nella legge ma è chiaro. E cioè nel primo caso quindi nel secondo punto di questa slide la conferenza semplificata si è già tenuta quindi gli enti e anche quelli preposti alla tutela degli interessi di rango costituzionale conoscono già il progetto hanno già avuto modo di effettuare una disamina eccetera e quindi non è una novità questo progetto e quindi il termine è di 45 giorni per tutti. Laddove invece si tratti di un nuovo progetto che deve essere esaminato ex novo appunto perché la conferenza è nata già in forma contestuale fin da subito è chiaro che trova come dire dignità e ragione la differenziazione tra 45 e 90 giorni. anche nella conferenza di servizi contestuale si applica lo ricordo sempre il silenzio assenso ne abbiamo parlato l'altra volta lo ribadiamo adesso vale identicamente quanto previsto dall'articolo 14 bis comma 4 per il silenzio assenso e cioè il discorso qui non è questo lo ricordo a tutti i responsabili di procedimento ma anche a quelli che devono intervenire nelle conferenze il discrimine non è se io sono un ente preposta alla tutela degli interessi sensibili o meno questo no questo mi comporta soltanto eventualmente un termine più lungo per poter rispondere il silenzio assenso non si applica quindi ripeto non si applica soltanto quando è la necessità dell'autorizzazione è prevista testualmente in una norma di rango comunitario quindi se c'è un regolamento o una direttiva abbiamo fatto gli esempi l'altra volta quali possono essere il riconoscimento alimentare sapete che ne parlavamo gli stabilimenti alimentari sono la maggior parte soggetti a notifica tipo bar ristoranti friggitoria e quant'altro quindi come se fosse una scia alimentare altri più complessi sono invece soggetti a riconoscimento in questo caso perché il riconoscimento è previsto da un regolamento comunitario del 2004 in questo caso è testualmente esclusa la possibilità di applicare il silenzio assenso così come nel caso per esempio delle emissioni in atmosfera nell'articolo 269 lì c'è anche una fac del dipartimento della funzione pubblica dell'epoca della riforma Madia quindi del 2016 2017 fu chiaro da subito che per la procedura ordinaria di emissioni in atmosfera ai sensi del 269 non si può applicare il silenzio assenso proprio perché lo vieta la necessità di una di un'autorizzazione esplicita è prevista dalla normativa comunitaria quindi ci sono questi casi limite in cui è pacifico che non si possa che non si possa divenire al silenzio assenso cosa si fa allora in questi casi se io sono responsabile del procedimento e sono bloccato evidentemente da un mancato parere reso da un'autorità di tal genere sicuramente scriverò diffiderò metterò in mora rappresentando tutte le conseguenze che derivano anche in termini di danno da ritardo che può essere chiesto dal privato al giudice ordinario e quant'altro ma certamente non posso quindi io lo farò io lo farei e l'ho fatto insomma quando ho fatto il responsabile di procedimento proprio per segnare la mia posizione rispetto a quella di chi non mi dà il parere perché noi i responsabili del procedimento vi ricordo ha una come dire una responsabilità procedimentale deve comunque far girare la conferenza in generale il procedimento in maniera ordinata e rispettosa e celere ma certamente non può sostituirsi ad altri enti nel caso in cui non si applica il silenzio assenso e questo appunto è uno di due casi quindi sicuramente i rimedi sono in questo caso quelli di rappresentare lo dico sempre mettendo sempre in conoscenza il privato e l'interessato quindi di rappresentare il danno che si sta creando con il mancato rilascio del parere un altro aspetto molto interessante è una vera innovazione apportata dalla riforma Madia dal decreto 127 del 2016 nella conferenza dei servizi contestuali è il ruolo del rappresentante unico e cioè mentre prima ogni ente stava per sé in conferenza dei servizi anche gli enti che appartenevano allo stesso livello di governo oggi no oggi ciascun ente viene intanto ciascun ente rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso cioè se ci sono se l'ente se l'ente ha più anime come nel caso del comune delle province delle regioni ma anche di altri enti quindi c'è per esempio per i comuni ci sono l'ufficio edilizia al suo e c'è il suo app c'è la polizia locale che a volte è anche portatrice di competenze autorizzatorie e quant'altro ci sono c'è l'ufficio ambiente sono vari uffici che rilasciano che rilasciano in questo caso il comune deve stare in conferenza attraverso un rappresentante unico ok ma non soltanto quindi non è soltanto il comune o la provincia o la regione o il ministero che devono stare in conferenza attraverso un rappresentante unico il rappresentante unico deve essere tale cioè deve rappresentare non soltanto quell'ente mettiamo il caso del comune ma tutti gli enti di carattere che appartengono a quel livello di governo faccio l'ipotesi del comune ma può essere più facilmente immaginato per altri livelli di governo ma ad ogni modo il comune può avere una partecipata per esempio che deve rilasciare un'ullaosta un'autorizzazione per un sottoservizio e quant'altro in quel caso che deve essere chiamato a esprimere il proprio parere in conferenza dei servizi in questo caso il rappresentante del rappresentante dell'unico dovrebbe portare la voce non soltanto del comune quindi dei vari uffici comunali ma anche della società privata partecipata dal comune questo vale anche per le province per le regioni vale per tutti i livelli di governo in particolare per quanto riguarda un livello di governo centrale quindi statale se si tratta di amministrazioni statali appunto centrali il ministero per fare un esempio in questo caso il rappresentante unico di tutte le amministrazioni statali è nominato dal presidente del consiglio se invece si tratta di amministrazioni periferiche dello stato per esempio le sovrintendenze i comandi provinciali dei vigili del fuoco sapete che le sovrintendenze sono articolazioni periferiche del MIBACT i comandi provinciali sono articolazioni periferiche del dipartimento della sicurezza presso il ministero dell'interno in questo caso il rappresentante unico viene nominato dal prefetto e qua poi ne deriva anche lo vedremo in una slide successiva a chi dobbiamo inviare poi dobbiamo inviare l'atto di indizione questo però non vuol dire che le altre amministrazioni siano del tutto espropriate dalla partecipazione alla conferenza tutt'altro le singole amministrazioni non soltanto statali ma naturalmente anche quelle regionali provinciali comunali possono comunque intervenire in funzione di supporto quindi io posso partecipare se sono il dirigente il responsabile dell'ufficio commercio dell'ufficio edilizia del SUAP del SU della polizia locale come da voi io posso tranquillamente partecipare dando supporto al rappresentante unico e questo è importante e questo è importante per un motivo che vediamo subito sotto e cioè le amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico territoriale dei beni culturali alla tutela della salute della pubblica incolumità dei cittadini cioè le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili prima della conclusione dei lavori quindi prima non dopo prima della conclusione dei lavori della conferenza possono esprimere al rappresentante unico il proprio dissenso e questo è importante quindi questo non riguarda naturalmente l'ufficio commercio l'ufficio edilizia del l'ufficio edilizia del comune che non sono portatore di interessi sensibili però è bene saperla questa cosa perché se noi abbiamo in conferenza questo tipo di enti dobbiamo sapere che questi devono esprimere il proprio dissenso al rappresentante unico a verbale naturalmente prima della conclusione e questo deve risultare dal verbale dell'ultima riunione in particolare e perché questo è importante perché ciò consente a patto che il dissenso sia motivato ed espresso in maniera inequivoco vi ricordate ne abbiamo parlato l'altro giorno a proposito dei requisiti del parere negativo quindi affinché il dissenso purché il dissenso sia motivato ed espresso in modo inequivoco questo consente a queste amministrazioni ripeto portatrici di interessi sensibili di proporre opposizione al presidente del consiglio secondo una procedura che poi vedremo meglio che è delineata nell'articolo 14 quinques della 241 però questo appunto è soltanto vale soltanto per le amministrazioni quindi è un rimedio come dire pre pre giudiziario quindi che precede un contenzioso giudiziario vero e proprio quindi è un rimedio amministrativo quindi non siamo in un contenzioso giudiziario ma in una fase di opposizione amministrativa poi dopo vedremo bene come si come si sviluppa però è importante importante questo discorso se non hai fatto la non hai rappresentato il tuo motivato di senso che deve essere espressa anche in modo inequivoco al tuo rappresentante unico non hai il titolo per presentare opposizione alla determinazione favorevole della conferenza ogni regione ogni ente locale quindi ogni comune ogni provincia ogni città metropolitana definisce in autonomia le modalità per disegnare il rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione oppure riconducibili allo stesso ente locale così come la partecipazione degli enti ai lavori della conferenza quindi questo che cosa vuol dire che data l'autonomia occorre adottare tutte le misure organizzative interne idonee per assicurare un efficace coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti ad esempio in molti enti si svolge in maniera efficace più o meno efficace una conferenza di servizi istruttori interna all'ente locale oppure a livello di governo che fa capo all'ente locale quindi preliminarmente il rappresentante unico come dire partecipa a una conferenza di servizi istruttoria sempre possibile facoltativa prevista dall'articolo 14 della 241 noi non abbiamo parlato perché qui parliamo soprattutto della conferenza decisoria ma quella istruttoria è sempre possibile in cui si rappresenta appunto le posizioni delle varie anime del comune della provincia della regione esitando gli indirizzi per l'espressione del voto al rappresentante unico quindi alla luce di quello che abbiamo detto prima è importante inviare l'avviso di indizione di convocazione alle persone giuste agli enti giusti cioè quando abbiamo amministrazioni periferiche dello Stato quindi quando dovrò invitare soprintendente e soprintendenze o altri o altri enti il comando provinciale di vigili del fuoco e quant'altro sicuramente la 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 comunicherò anche al prefetto oppure se ci sono amministrazioni centrali dello Stato al dipartimento del coordinamento amministrativo presso la presidenza del consiglio così come anche alla regione agli enti locali eccetera quindi è importante l'indirizzario della conferenza dei servizi per evitare che qualcuno possa eccepire un difetto di notifica che poi è quello che può far invalidare può far inficiare tutta la tutta la procedura altro aspetto delicato molto delicato che non è stato toccato direi quasi purtroppo non è stato toccato dalla riforma Madia è quello della 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 vexata questio della 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 questione molto delicata riguardante la decisione in particolare quando vi sono posizioni prevalenti e cioè la norma dice il 14 ter al termine dell'ultima riunione e comunque non oltre il termine previsto per la conclusione della conferenza cioè 45-90 giorni della data della prima riunione l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza badate non positiva o negativa dipende la norma dice la determinazione motivata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti ora cosa voglia dire posizioni prevalenti espresse sono stati come dire gettati i fiumi di inchiostro ma diciamo quello che l'unico arresto giudisprudenziale interessante è una sentenza del consiglio di stato del 2014 che che comunque si limita a dire che nella prevalenza va intesa con riferimento all'interesse pubblico sottostante cioè bisogna valutare qual è l'interesse pubblico sottostante che si ritiene prevalente rispetto agli altri come vedete è una è un qualcosa che lascia assoluta discrezionalità al responsabile del procedimento ragion per cui spesso molti responsabili del procedimento come mi perdonerete il termine a tecnico per non saperne leggere né scrivere davanti a una davanti a una un parere negativo soprattutto se espresso da enti di rango costitutivo di enti prepossi alla tutela degli interessi sensibili procedono una determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza però ci sono anche casi invece in cui alcuni responsabili fanno procedono invece a una a una procedono a una conclusione positiva sulla base delle prevalenti quindi non ritenendo quel parere negativo prevalente ripeto non ci sono criteri come il consiglio di stato dice bisogna valutare la prevalenza dell'interesse pubblico dedotto da quell'ente quindi detto questo vuol dire tutto e niente insomma chiaramente poi ognuno valuterà sulla base della propria esperienza della prudenza del proprio agire amministrativo ad ogni modo anche qui è importante il secondo punto della slide e cioè si considera acquisito anche nella conferenza contestuale l'assenso senza condizioni delle amministrazioni in cui il rappresentante non abbia partecipato alle riunioni oppure vi ha partecipato ma non abbia espresso la propria posizione ai sensi del comma 3 cioè in maniera motivata argomentata eccetera oppure abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza quindi se l'oggetto della conferenza è x non puoi dare parere negativo su y quindi questa invece sì è una responsabilità precisa del responsabile del procedimento di considerare come favorevole e incondizionato un parere negativo che sia stato espresso in questo modo così come vi ricordo che anche i pareri negativi devono avere i pareri tardivi chiedo scusa devono avere la stessa devono avere lo stesso trattamento tant'è che è stato aggiunto nel 2020 un comma il comma il comma 8 bis dell'articolo 2 della legge 241 del 90 che dice ve lo ricordo perché parliamo della stessa cosa le determinazioni relative ai provvedimenti alle autorizzazioni ai pareri ai nulla ossi agli atti d'assenso comunque denominati adottate dopo la scadenza dei termini previsti anche dall'articolo 14 bis e quant'altri o successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14 ter comma 7 sono inefficaci quindi l'articolo 2 comma 8 bis dice che il parere negativo dato dopo la scadenza dell'ultima riunione prevista dall'articolo 14 ter comma 7 è un parere inefficace la norma fa salvo quanto previsto tuttavia dall'articolo 21 noviest che poi leggeremo più avanti cioè se sussistono i casi per l'annullamento d'ufficio ma fuori da queste ipotesi un parere tardivo è un parere non efficace quindi non lo dobbiamo considerare vi ricordate prima che tra l'altro uno dei motivi l'abbiamo detto poc'anzi uno dei motivi per presentare per presentare opposizione alla presidenza del consiglio è l'aver richiesto prima del parere in conferenza del rappresentante unico cioè aver comunicato prima al proprio rappresentante unico il proprio motivato di senso espresso in forma inequivoca ok quindi pareri negativi tardivi come se non come se non ci fossero allora vediamo adesso la per quanto riguarda poi l'aspetto decisorio la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza adottata dall'amministrazione precedente sostituisce a tutti ogni effetto tutti gli atti d'assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati opportuno questo ultimo inciso perché vi ricordo che sono soggetti alla legge 241 anche i gestori di beni o servizi pubblici laddove svolgono attività procedimentalizzata quindi l'attività pubblicistica sono soggetti assolutamente non soltanto alla legge 241 ma anche come sapete a tutta la normativa in materia di trasparenza quindi tutta una serie di obblighi previsti dal decreto 33 del 2013 sono anche a carico di questi gestori di beni o servizi pubblici per la parte appunto di attività pubblicistica le amministrazioni come dicevamo prima le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza se ritengono che il provvedimento non vada bene possono fare due cose e cioè possono chiedere chiedere sollecitare con una congrua motivazione possono chiedere a me al responsabile del procedimento di annullare in autotutela la determina conclusiva previa indizione di una nuova conferenza ai sensi dell'articolo 21 nonies va bene quindi quindi è sempre data questa possibilità di chiedere ovviamente chiedere non vuol dire ottenere io posso sempre però loro possono sicuramente chiedere la convocazione di una conferenza che che serva a procedere in autotutela invece se questi enti hanno partecipato alla conferenza dei servizi che si sono espressi nei termini possono anche chiedere non soltanto l'annullamento perché si assume che sia un atto si assume che sia un atto illegittimo poi dopo lo vedremo la differenza tra annullamento e revoca comunque fin da subito diciamo che l'annullamento lo si può chiedere quando si ritenga un atto afflitto da uno dei tre vizi tipici di legittimità previsto dall'articolo 21 che poi vedremo dopo altrimenti se invece si tratta di un atto in sé per sé legittimo ma si ritiene che l'interesse pubblico sia cambiato ci siano fatti nuovi eccetera purché abbiano partecipato alla conferenza abbiano votato se siano espressi nei termini possono possono chiedere anche la revoca in autotutela quindi non soltanto l'annullamento ma la revoca ai sensi dell'articolo 21 quindi questo al di là della proposizione dell'opposizione possono chiedere direttamente al responsabile di attivare i suoi poteri di autotutela con revoca o annullamento dopodiché qual è il regime di efficacia della determinazione favorevole positiva della conferenza dei servizi se vi è stata approvazione unanime e naturalmente ci mancherebbe la determinazione immediatamente efficace quindi diventa efficace nel momento in cui essa viene comunicata all'interessato e a tutti gli enti invitati se invece il responsabile del procedimento si è avvalso della potestà di decidere sulla base delle posizioni prevalenti l'efficacia della determinazione è sospesa se sono stati espressi di sensi qualificati per quanto tempo è sospesa per il tempo ridotto utile alla presentazione dell'opposizione quindi per dieci giorni quindi in questo caso c'è una sospensione del periodo di efficacia c'è un differimento se vogliamo di dieci giorni nei dieci giorni gli enti preposti alla tutela degli interessi sensibili possono presentare opposizione dopodiché è chiaro che il termine di efficacia quindi laddove se a noi interessa capire qual è il DSQ di un provvedimento unico adottato in sede di conferenza dei servizi è sempre quello della data della comunicazione della determinazione motivata cioè si tratta di un atto come si dice in gergo giuridico recettizio quindi che esplica i suoi effetti dal momento in cui viene comunicato a mezzo pecca a mezzo di un portale o brevi mano insomma dipende da come si è svolta la conferenza la determinazione motivata di conclusione della conferenza ricordo a tutti che perché vedo che in molti casi si fa ancora confusione il verbale finale della conclusione della conferenza della seduta finale della conferenza dei servizi non è un atto ex se impugnabile né dal privato né dagli enti distensienti quindi quello che è impugnabile è l'atto che reca in sé l'efficacia lesiva quello che lesiva per il privato o lesiva per gli enti che hanno votato contro che eventualmente sono interessati ad impugnare e la determinazione finale che deve essere impugnata che contiene naturalmente tutti i pareri espressi e che al cui viene tipicamente allegato il verbale ma il verbale in sé non è un autonomo un atto che può essere autonomamente impugnato come dicevamo prima per le amministrazioni distensienti di rango costituzionale quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili c'è la possibilità di fare opposizione al presidente del consiglio dei ministri nei dieci giorni dalla comunicazione della determinazione favorevole però come dicevamo prima a condizione che abbiano espresso il proprio dissenso motivatamente in forma inequivoca prima della conclusione dei lavori vi ricordo ancora una volta il comma 8 bis dell'articolo 2 i parelli tardivi sono inefficaci quindi non potranno mai trovare accoglimento la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione quindi se nei dieci giorni io verifico che c'è un ente preposto alla tutela degli interessi sensibili che ha fatto opposizione amministrativa alla mia determinazione naturalmente saprò sono consapevole e avvertirò anche tutti gli altri enti e l'interessato che l'efficacia della mia determinazione è sospesa non è naturalmente annullata o quant'altro è sospesa finché non viene concluso il procedimento che si attiva davanti alla presidenza del consiglio vediamo allora questo procedimento abbastanza snello cioè la presidenza del consiglio indice in una data non successiva al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione una riunione dove partecipano non soltanto ovviamente le amministrazioni che hanno espresso il distenso ma tutte cioè sono invitate tutte le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza nel corso della riunione i partecipanti formulano proposte secondo il principio delle alle collaborazioni per individuare se è possibile una soluzione condivisa in questo caso questa soluzione sostituirà la determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli stessi effetti quindi una può esserci una ripetitazione della determinazione motivata di conclusione per cui se all'esito di questa riunione attivata presso la presidenza del consiglio si raggiunge l'intesa allora l'amministrazione precedente adotterà una nuova determinazione motivata conforme a questa intesa raggiunta presso la presidenza del consiglio se invece in esito dalla riunione e comunque silenzio assenso non oltre 15 giorni dal suo svolgimento questa intesa non viene raggiunta la questione viene rimessa dalla presidenza del consiglio direttamente al consiglio dei ministri se il consiglio dei ministri non accoglie questa opposizione la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia ma naturalmente il consiglio dei ministri può anche procedere a un accoglimento parziale e in questo caso in questo caso appunto questo è il caso intermedio fra fra invece il mancato accoglimento e l'accoglimento in toto quindi questi sono i rimedi per le amministrazioni distanzienti ai sensi dell'articolo 14 cipinques però come ci ha ricordato un parere del 30 settembre 2019 della prima sezione consultiva del consiglio di stato su un quesito posto della presidenza del consiglio dei ministri che cosa aveva detto cosa aveva chiesto la presidenza del consiglio dei ministri aveva detto qua stanno piovendo numerose opposizioni ma è un eufemismo quello adottato da Palazzo Chigi quindi più che numerose erano tantissime le opposizioni che arrivavano anche da parte soprattutto di amministrazioni comunali che volevano opporsi appunto amministrativamente alla determinazione della conferenza che dicevano io comunque sono l'ente esponenziale della mia collettività ai sensi del Tuel del rete legislativo 267 del 2000 quindi ritengo di avere la titolarità per poter proporre opposizione ma in tutti i campi soprattutto quelli quando le conferenze venivano chiuse dalle regioni su impianti importanti come impianti di smaltimento rifiuti produzione di energia da punte rinnovabile lavori di mitigazione del rischio idrogeologico il consiglio di stato ovviamente ha preso una posizione abbastanza netta e cioè ha detto il sindaco in quanto tale il comune in quanto tale non è legittimato ex se a fare opposizione ai sensi dell'articolo 14 soltanto perché è l'ente esponenziale della propria collettività ma lo può essere nel caso in cui vi siano in particolare in caso di delega vi siano delle funzioni tecnico-scientifiche di tutela di interessi sensibili quali possono essere ad esempio quando il comune viene delegato alla regione come accade in alcuni casi rilascio per esempio dell'autorizzazione paesaggistica allora in quel caso sì perché come sappiamo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice del paesaggio è sicuramente un qualcosa che rientra nella rientra in questo discorso di interessi sensibili parliamo della tutela del paesaggio ma questi sono casi specifici che vanno verificati caso per caso in generale dice il consiglio di stato il comune in sé come ente esponente della esponenziale della collettività locale non è legittimato a proporre questo tipo di opposizioni con questo come dire con questa con questa con questo articolo si chiude il titolo primo del decreto legislativo 127 del 2016 e poi opportunamente molto opportunamente ritengo io è stato inserito un titolo secondo sempre del reto legislativo 127 che riguarda il coordinamento le norme di raccordo fra la legge generale e alcune normative speciali certo non tutte ma sicuramente alcune importanti soprattutto per i comuni sono state inserite perché diciamoci la verità spesso in tutte le precedenti riforme della 241 c'erano questi interventi di riforma anche incisivi ma poi non c'era mai il coordinamento con le norme di settore quindi ci si chiedeva sempre come ci si dovesse comportare e davanti alle incertezze applicative e normative era poi sempre la giurisprudenza a dire se si applicava la legge specialis o meno in questo caso opportunamente il legislatore è intervenuto e ha inserito intanto una clausola di coordinamento generale all'articolo 8 dove si dice che in tutte le leggi quando ci si riferisce agli articoli da 14 a 14 qui in questo della 241 ci si deve riferire naturalmente alla nuova disciplina della conferenza di servizi anche se il rimando è precedente al 2017 dopodiché sono stati introdotti una serie di una serie di di norme di coordinamento che hanno cambiato direttamente il testo di norme speciali per renderle coerenti con la nuova normativa generale in particolare nel campo dell'edilizia l'articolo 2 ha modificato ha portato modifiche al testo unico dell'edilizia al dpr 380 del 2001 modificando in particolare la linea e poi la lettera G dell'articolo 5,3 la linea cosa dice a proposito delle competenze del SUE sapete che l'articolo 5 è quello che introduce per la prima volta lo sportello unico per l'edilizia e dice nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire la conferenza dei servizi è sempre indetta quando è necessario acquisire più atti di assenso per realizzare l'intervento edilizio quindi come vedete il caso di attivazione della conferenza dei servizi viene ricondotto alla stessa casistica prevista dalla legge generale cioè quando io come responsabile devo acquisire più atti di assenso devo quindi non posso devo indire la conferenza dei servizi così come è stata modificata la lettera G dell'articolo 5,3 il testo barrato è quello precedente quindi il suo acquisisce gli atti di assenso comunque denominati previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati fermo restando che questo è il testo precedente in caso di manifesto o dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali si procede ai sensi del medesimo condice non è più così se c'è il dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali non si procede ai sensi del codice dell'ambiente si procede ai sensi della 241 infatti la relazione illustrativa del 127 sottolinea appunto che viene allineata la disciplina urbanistica alla nuova disciplina generale cioè nella conferenza dei servizi nessun interesse neanche quello posto alla tutela dei beni culturali del paesaggio può di per sé bloccare la conclusione del procedimento perché prima il procedimento si bloccava oggi no abbiamo detto oggi il procedimento si blocca soltanto quando non viene rilasciato il parere richiesto come obbligatorio da una direttiva o un regolamento comunitario non è questo il caso dei pareri riguardanti i beni culturali e il paesaggio ancora vengono abrogati due commi dell'articolo 20 l'articolo 20 del testo unico dell'edilizia è quello che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire il comma 5 bis diceva se entro al termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese i concerti gli atti dal senso comunque denominati delle altre PA ho intervenuto il dissenso qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento il responsabile indice la conferenza ai servizi e questo è come dicevamo l'altra volta era il caso tipico in cui fino al 2017 venivano indette le conferenze cioè come un rimedio che si innestava su una patologia del procedimento amministrativo quindi non mi arrivavano i pareri e io indicevo dopo che già erano dei corsi molti giorni indicevo la conferenza oggi invece no se ancora una volta anche per il rilascio del permesso di costruire se dall'inizio devo acquisire più atti di assenso da parte di altre amministrazioni pubbliche indico subito la conferenza così come è stato abrogato il comma 9 dello stesso articolo 20 in caso di dinego dell'atto di assenso eventualmente acquisito in conferenza di corso il termine per l'adozione del provvedimento finale la domanda di rilascio si intende respinta il responsabile del procedimento trasmette a richiedente il provvedimento di dinego dell'atto di assenso dentro 5 giorni quindi anche qua in caso di dinego eventualmente acquisito no non è così comunque non c'è questa eventualità della conferenza dei servizi e inoltre e inoltre e inoltre la e inoltre la come si dice la oggi sappiamo che invece c'è prevista anche un silenzio assenso se il privato ha presentato tutta la documentazione prevista e non c'è stata nessuna nessuna comunicazione da parte del suo nei tempi previsti dell'articolo 20 ancora sempre per conto riguardi i rapporti con il testo unico per l'edilizia viene questo l'abbiamo detto no per quanto riguarda invece il rapporto con il SUAP vengono modificati dall'articolo 3 il decreto legislativo 112 del 2008 e il DPR 160 del 2010 quindi l'articolo in particolare viene soppresso nel secondo periodo dell'articolo 38 comma 3 lettera F del decreto legge 112 vi ricordo che questo è il decreto che poi sulla base del quale il governo ha emanato il DPR 160 del 2010 quello dello sportello unico telematico quindi in caso di deniego il privato può chiedere il ricorso alla conferenza di servizi ancora una volta viene abrogata quindi la previsione della facoltatività dell'indizione della conferenza così come viene modificato il particolare l'articolo 7 del DPR 160 del 2010 con l'articolo 3 del decreto 127 cioè la conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici mentre prima prima invece l'obbligatorietà c'era soltanto se vi erano endoprocedimenti che avevano una durata superiore a 90 giorni altrimenti la conferenza era facoltativa oggi invece ancora una volta quella norma di settore viene ricondotta a unità rispetto a quanto prevede la legge generale quindi se ho più atti di assenso devo indire la conferenza stessa cosa identica per quanto riguarda l'allineamento tra la disciplina settoriale dell'AUA il DPR 159 del del 2013 e la legge 241 e cioè la conferenza si modifica l'articolo 4 del del DPR 59 la conferenza in caso di AUA autorizzazione unica ambientale è sempre indetta nei casi previsti dalla 241 non è più una semplice facoltà anche qui prima invece la conferenza era obbligatoria soltanto se gli endoprocedimenti ambientali dei soggetti competenti in materia ambientale dovevano essere rilasciati in un termine superiore a 90 giorni così un'altra cosa interessante viene abrogato un comma dell'articolo 4 del decreto 59 che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza quindi mandando magari attraverso fax o pecco o email i propri pareri favorevoli oggi il parere favorevole ripetiamo deve essere espresso in conferenza appena di inammissibilità è un requisito di validità del parere ancora scusate ok un ultimo passaggio che riguarda il decreto 127 del 2016 il raccordo fra l'articolo 6 che cura il raccordo tra la 241 e il decreto legislativo 42 del 2004 il cosiddetto decreto urbano il codice del paesaggio e cioè l'articolo 6 dice quando in conferenza dobbiamo acquisire l'autorizzazione paesaggistica per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del sovrintendente la comunicazione di indizione va fatta sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione se è diversa dalla precedente sia al sovrintendente quindi se per esempio la l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è il comune e la conferenza viene indetta alla regione io la dovrò inviare sia al sovrintendente che al comune stesso se sono un responsabile della regione ma stessa cosa se sono per esempio il responsabile del SUAP e comunque la invierò anche se si tratta del mio ente la invierò sempre all'ufficio che si occupa del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e sia al sovrintendente quindi a entrambi questo è proprio per chiarire a chi vanno effettuate le comunicazioni per evitare che si possa eccepire un difetto di notifica allora io con questa slide ho terminato diciamo così la panoramica sulle principali innovazioni contenute nella riforma del 2017 su conferenza di servizi semplificate e contestuali mi invito a fare domande insomma sulla chat alla quale poi potrò dare proverò a dare risposta negli ultimi 20 minuti vi segnalo dottor Roccasalva che c'è stata una domanda nella chat perfetto quindi se vuole gliela metto da parte la vedo poi magari rispondo rispondo dopo rispondo alla fine quindi invito anch'io tutti i partecipanti semmai a segnarle in chat e poi verso la fine diciamo del webinar il dottor Roccasalva si riserva qualche minuto per poter rispondere appunto a queste osservazioni domande negli ultimi minuti rispondo a tutte le domande arrivate in chat allora le ultime slide di questo incontro sono relative a come dire a demarcare a illustrare le caratteristiche e le differenze tra due dei principali i due principali istituti di ritiro dell'atto amministrativo in autotutela e cioè la revoca e l'annullamento che sono due istituti normati per la prima volta nel 2005 dalla legge 15 introdotti nella 241 prima la revoca e l'annullamento erano istituti soltanto dottrinari e giurisprudenziali finalmente poi una ventina di anni fa sono stati disciplinati dalla norma introdotti in due distinti articoli della 241 quindi l'articolo 21 quinquies per la revoca e l'articolo 21 noviies per l'annullamento vediamo ad ora la revoca quali sono i presupposti per l'esercizio della revoca dell'atto amministrativo intanto deve esistere un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole ad efficacia durevole vuol dire che dura nel tempo quale può essere un permesso di costruire quale può essere un'autorizzazione commerciale e quant'altro che esplica i suoi effetti nel tempo il secondo elemento questi sono ovviamente tutti sono tutti elementi che poi sono costituiscono la cui mancanza determina vizi di legittimità del provvedimento di revoca sopravvenienza quindi è sopravvenuto un motivo di interesse pubblico è mutata la situazione di fatto quindi però in maniera imprevedibile rispetto al momento in cui l'atto il provvedimento che oggi si poteva revocare era stato adottato se c'era invece la prevedibilità naturalmente la revoca soprattutto per una serie di sentenze che poi commenteremo più avanti non potrebbe trovare giustificazioni quindi si deve trattare di un evento realmente imprevedibile al momento era imprevedibile al momento in cui l'atto che oggi si poteva revocare era stato adottato ancora questo però questo vale la rinnovata e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario quindi non nuovi interessi nel secondo caso il secondo pallino il secondo quadratino meglio della parla di sopravvenimento di motivi di interesse pubblico quindi ci sono nuovi motivi di interesse pubblico che non erano stati considerati contemplati nel primo provvedimento qua invece no è lo stesso interesse pubblico originario su cui però viene fatta una nuova e diversa valutazione questo però per una esigenza di certezza giuridica e per evitare arbitri e violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa dal 2014 è possibile per tutti i provvedimenti tranne per i provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggio di vantaggi economici cioè che vuol dire questo che se io ho rilasciato un'autorizzazione o ho finanziato un progetto o attribuito con un mio decreto una provvidenza per un'attività economica e quant'altro a un privato a un imprenditore eccetera non poterò revocarlo perché ho effettuato una nuova e diversa valutazione del vecchio interesse pubblico perché quello lo conoscevo già quindi posso soltanto eccepire che è sopravvenuto un nuovo motivo di interesse pubblico un mutamento imprevedibile della situazione di fatto proprio perché ricevendo soprattutto la giurisprudenza il legislatore nel 2014 ha detto devo dare un minimo di certezza di tutela dell'affidamento a chi ha ricevuto un provvedimento autorizzatorio o un vantaggio economico della pubblica amministrazione e in più se la revoca comporta dei pregiudizi in danno dei soggetti interessati l'amministrazione deve anche provvedere all'indennizzo ok quindi se c'è una se c'è una cosa che non troveremo nell'annullamento perché perché la caratteristica fondamentale della revoca è che questo è un atto di ritiro che colpisce un provvedimento che quando è stato emanato era un provvedimento perfettamente valido legittimo non aveva vizi non era un provvedimento viziato a differenza dell'annullamento che invece come vedremo è un atto di ritiro che colpisce gli atti che nascono già viziati e questo avrà delle conseguenze in particolare per quanto riguarda l'efficacia dell'atto rispettivamente revocato o annullato allora andiamo avanti scusate ogni tanto salta la slide ecco qua allora in più ci dice l'articolo 21 qui in questo della 241 se la revoca incide su un rapporto negoziale quale può essere appunto eventualmente un contratto stipulato dal comune con un privato contraente l'indennizzo che verrà liquidato dall'amministrazione è parametrato soltanto al danno emergente se non anche aggiungo io al lucro cessante sapete che quando si chiede risarcimento del danno l'avvocato tipicamente chiede risarcimento del danno derivante dal danno emergente quindi dall'esborso che materialmente il danno proprio che mi deriva dall'esborso che dovrò sopportare in conseguenza di questo atto è il lucro cessante il lucro cessante è il mancato guadagno che mi deriva anche questo in questo caso dalla revoca l'indennizzo che liquiderà in questo caso l'amministrazione è soltanto il danno emergente quindi senza con l'esclusione del mancato guadagno del lucro cessante e va tenuto conto sia della conoscenza conoscibilità da parte dei contraenti del fatto che l'atto era comunque contrario all'interesse pubblico sia dell'eventuale concorso degli stessi contraenti all'erroneo valutazione della compatibilità dell'atto con l'interesse pubblico cioè se vi è stato in qualche modo un concorso di colpa non è stato soltanto un'amministrazione a fare una valutazione errata oppure se la nuova valutazione dell'interesse pubblico era in qualche modo prevedibile si sapeva che si poteva arrivare a questo naturalmente se ne deve tener conto nella determinazione dell'indennizzo da liquidare all'interessato qual è la conseguenza della revoca e l'inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti ma quelli prodotti finora sono assolutamente salvi e legittimi questo perché perché come dicevamo prima la revoca colpisce un atto in sé legittimo che viene ritirato dall'ordinamento giuridico perché si fa una nuova valutazione di un nuovo interesse pubblico oppure una rivisitazione dell'originario interesse pubblico quindi si parla in questi casi di revoca con efficacia ex nunc cioè da ora non invece ex dunc dall'ora come nel caso dell'annullamento qua in questa slide vi ho voluto mettere delle una sentenza abbastanza interessante del consiglio di stato vi ho messo gli estremi così nel caso potete anche andarvela a scaricare della terza sezione è una sentenza del 2016 che dice la revoca dei procedimenti amministrativi disciplinata dall'articolo 21 pinquest della 241 introdotta dalla legge 15 del 2005 si configura come strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione con efficacia ex nunc quindi non retroattiva di un atto a efficacia durevole in esito a una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia il potere di revoca questo è il passaggio interessante del consiglio di stato rimane connotata da un'ampia forse ad avviso della terza sezione perfino eccessiva discrezionalità a differenza del potere di annullamento d'ufficio che postula l'illegittimità dell'atto abbiamo detto che l'annullamento riguarda un atto che nasce annullabile quindi nasce già viziato quindi qua invece no quindi a differenza del potere di annullamento d'ufficio che postula l'illegittimità dell'atto rimosso d'ufficio quello direvo che esige una valutazione di opportunità anche se naturalmente nel valutare l'opportunità dovrò andarmi a leggere le condizioni previste dall'articolo 21 quinquies e nel modo generico anzi detto sì che il valido esercizio dello stesso resta rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente questo è chiaro cioè anche se io nell'articolo 21 quinquies come legislatore ho scritto quali sono i parametri per poter arrivare eventualmente a una revoca è chiaro che se torno indietro alla slide e vedo quali sono gli elementi della revoca la sovravenienza di motivi di interesse pubblico una rinnovata e diversa valutazione dell'originario interesse pubblico è chiaro è chiaro che c'è una grande discrezionalità da parte dell'amministrazione procedente e dirò di più che è censurabile questo è quello che dice la sentenza del Consiglio di Stato è censurabile e quindi è illegittima la revoca che ometta quindi che non consideri in maniera adeguata e non protegga in maniera appropriata le esigenze sempre più avvertite come ineludibili connesse alla tutela del legittimo affidamento il legittimo affidamento è secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE dell'Unione Europea è un principio fondamentale quindi sempre nell'ambito della leale collaborazione tra pubblico e privato io devo sempre salvaguardare il legittimo affidamento per cui chiaramente nel momento in cui vado a revocare un atto che nasce legittimo l'edo o interesse del privato e quindi lo dovrò fare soltanto quando ciò sia assolutamente necessario e indispensabile e quindi in generato infatti in generato nel privato danneggiato dalla revoca e all'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall'atto originario nonché più in generale alla stabilità dei provvedimenti amministrativi quindi dovrò fare una valutazione caso per caso in cui dovrò dare conto del fatto che l'interesse pubblico alla revoca all'eliminazione di questo provvedimento dell'ordinamento giuridico è più importante e più forte prevale sull'altro interesse pubblico che è comunque importante cioè quello del legittimo affidamento del privato e della stabilità in generale dei provvedimenti amministrativi e conclude il Consiglio di Stato non può bastare per ovviare a questo deficit a questa carente motivazione dell'amministrazione che stava procedendo alla revoca in quella fattispecie non può bastare il fatto di prevedere un indennizzo ai privati per compensare questi squilibri regolativi sovrassegnalati quindi il Consiglio di Stato ammonisce le amministrazioni a effettuare un approfondito istruttore a dare conto del fatto che al di là dell'indennizzo la revoca era realmente l'unico strumento possibile per far prevalere un interesse pubblico ritenuto assolutamente indispensabile e anche tenuto conto dell'opposto interesse pubblico del legittimo affidamento interesse privato del legittimo affidamento e interesse pubblico della stabilità dei provvedimenti amministrativi quindi morale della favola dobbiamo ben dobbiamo ben motivare naturalmente i nostri provvedimenti di revoca secondo i giudici quindi della terza sezione del Consiglio di Stato l'articolo 21 5 lo dobbiamo intendere secondo questi canoni stringenti e cioè la revisione dell'assetto di interessi interessi previsto dall'atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell'atto che si intende revocare questo non l'ho detto finora ma è assolutamente indispensabile cioè i procedimenti finalizzati alla revoca o all'annullamento dell'atto amministrativo sono i cosiddetti procedimenti di secondo grado cioè sono procedimenti che mirano in questo caso a eliminare dall'ordinamento giuridico un provvedimento che è stato emanato sulla base di un procedimento di primo grado e in quanto tale è un procedimento e come tutti i procedimenti esenzi degli articoli 7 e 8 della 241 deve essere comunicato deve essere comunicato all'interessato e agli eventuali controinteressati quindi assolutamente proprio perché sempre ma a maggior ragione quando mi appresto emanare un atto in qualche modo restrittivo delle delle facoltà del privato devo motivare devo consacrare il principio del giusto procedimento devo ascoltare il privato che ovviamente mi potrà fare nel procedimento amministrativo mi potrà opporre tutte le sue ragioni che ostano alla revoca e io nel provvedimento finale dovrò dare conto del fatto che pur avendo ascoltato le ragioni del privato tuttavia sono rimasto determinato nel senso di procedere alla revoca quindi sicuramente il confronto procedimentale con il destinatario è fondamentale ancora sempre secondo la giurisprudenza non è sufficiente per legittimare la revoca un ripensamento tardivo e generico sulla convenienza dell'emanazione dell'atto originario e cioè non basta dire non sono più tanto convinto che l'atto originario debba restare nell'ordinamento giudizio dobbiamo entrare nello specifico e infatti terzo motivo le ragioni adotte a sostegno della revoca devono rivelare che cosa la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario cioè non basta dire in generale voglio ripristinare un interesse pubblico lo voglio valorizzare no devo dire che l'interesse pubblico è intenso e consistente e quindi lo devo motivare lo devo suffragare da dati tangibili che e quindi devo in qualche modo dare conto del fatto che soltanto con la revoca posso soddisfare questo interesse pubblico che intendo valorizzare così la motivazione della revoca deve essere profonda e convincente cioè devo esplicitare nella motivazione non soltanto i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico ma anche il fatto che questo interesse pubblico come valutato prevale sull'interesse del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole questo è fondamentale la motivazione deve andare anche in quella direzione cioè devo dire perché quell'interesse pubblico non soltanto deve essere meritevole di apprezzamento e di valorizzazione ma prevale sull'opposto interesse del privato al mantenimento di quel provvedimento ok in particolare sulla revoca vi segnalo questa sentenza interessante sempre del 2017 del TAR Campo Basso in questo caso che aveva dato ragione all'amministrazione resistente in giudizio e quindi dato torto al privato ricorrente era stata revocata la concessione di un'area demaniale dove c'era un chiosco perché lì c'era naturalmente successivamente si era posto in essere un intervento di finanza di progetto sapete il cosiddetto project financing di cui parlava sia il vecchio che il nuovo codice dei contratti pubblici per la progettazione costruzione e gestione di un parcheggio interrato multipiano che chiaramente era ritenuto assolutamente prevalente come interesse pubblico rispetto all'interesse dell'originario concessionario ora cosa dice il TAR dagli atti prodotti dall'amministrazione resistente risulta chiaro che il progetto di costruzione di questo parcheggio interrato multipiano costituisce oggetto di un progetto molto più ampio ed ha raggiunto un grado di sviluppo che ne attesta la concreta sussistenza e quindi quello che dicevamo prima la sussistenza dell'interesse pubblico la concretezza cioè non è soltanto un generico intendimento di fare in futuro chissà quale progetto pubblico no qua abbiamo già uno stato avanzato quindi abbiamo già un progetto un grado di sviluppo che ne attesta la sussistenza concreta quindi chiaramente il provvedimento di concessione del chiosco è adottato il provvedimento quindi di revoca della concessione è adottato sulla base di elementi oggettivi e concreti atti a supportare il legittimo esercizio del potere di revoca nell'annullamento d'ufficio invece e questo è l'ultimo argomento delle slide che cosa faccio io ritiro dall'ordinamento giuridico un atto che un atto che è nato illegittimo cioè e quindi l'efficacia sarà retroattiva ex tunc proprio perché colpisce un atto che era già nato viziato quindi quali sono i presupposti per l'annullamento d'ufficio articolo 21 nobis della 241 l'illegittimità originale del provvedimento perché in senso dell'articolo 21 octies è affetto da una delle tipiche patologie del provvedimento amministrativo cioè violazione di legge eccesso di potere e incompetenza l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione che è diverso dal mero ripristino della legalità cioè non dobbiamo attaccarci a un approccio formalistico della legalità non basta il mero ripristino ma dobbiamo dare conto della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e inoltre non devono esserci posizioni consolidate in capo ai destinatari quindi l'annullamento è un provvedimento discrezionale chiamato a ponderare da un lato l'interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento nato illegittimo nato invalido con gli altri interessi e chiaramente nell'esercitare questo potere di annullamento l'amministrazione deve dare conto nel suo atto ci mancherebbe della sussistenza di tutti questi interessi di tutti questi presupposti questo è importante perché scusate allora è importante soprattutto la questione del termine fino a pochi anni fa nell'articolo 21 a PS c'era scritto l'annullamento va adottato entro un termine ragionevole di corso il quale l'amministrazione decade dal potere ora cos'era il termine ragionevole cosa non era potete immaginarlo lo sapete già aveva dato la stura a un contenzioso amministrativo infinito motivo per cui con la legge Madia la 124 si era per la prima volta stabilito un termine cioè il termine era 18 mesi ok dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado per i casi di annullamento d'ufficio anche se si tratta di provvedimenti formati a seguito di silenzio assenso nel 2021 quindi tre anni fa l'articolo 63 del decreto 77 ha modificato l'articolo 21 9s della 241 e ha portato il termine da 18 a 12 quindi il termine massimo adesso c'è un un disegno di legge di semplificazione che pare voglio ulteriormente ridurlo ma per ora il termine è 12 mesi termine entro il quale posso procedere all'annullamento d'ufficio di questi provvedimenti amministrativi di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici secondo la relazione illustrativa il motivo è che così si consente un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento e l'interesse pubblico lo stesso articolo 21 9s che parla di annullamento dell'ufficio introduce un aspetto importante che è quello della convalida del provvedimento annullabile cioè io entro un termine ragionevole qui è rimasto l'addizione termine ragionevole sussistendo nelle ragioni di interesse pubblico che anche qui non possono consistere nella mera esigenza di ripristinare la legalità violata quindi ci deve essere un interesse concreto posso convalidare un provvedimento annullabile cioè questa è l'alternativa o lo annullo o lo convalido che cosa vuol dire convalido vuol dire perché sono trattati due istituti apparentemente opposti nello stesso articolo perché si tratta di strumenti di autotutela decisoria quindi in questo caso o convalido o annullo comunque mi sto avvalendo di autotutela decisoria in esito a un procedimento di secondo grado che cos'è la convalida è la rimozione del vizio quindi io vado a rimuovere il vizio che solitamente è un difetto di motivazione ma può essere un qualunque vizio dell'atto amministrativo e quindi lo emendo da quelle caratteristiche che ne avevano determinato di legittimità e quindi l'annullabilità quindi in un termine ragionevole posso anche convalidarlo il termine ovviamente non vale il termine di 18 e oggi di 12 mesi non vale quando l'annullamento è determinato dall'esigenza di rimuovere dall'ordinamento giuridico provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive o le famose ADSAN dichiarazioni sostitutive dell'atto di notarietà o autocertificazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passato ingiudicato in questo caso non c'è un termine di prescrizione quindi anche dopo la scadenza dei 12 mesi è possibile procedere all'annullamento fatta salva naturalmente l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 anche dall'articolo 77 del dpr 445 del 2000 che vi ricordo è il testo unico sulla documentazione amministrativa andiamo avanti ok dopodiché la legge del 2021 il decreto legge 77 per motivi di coerenza interna ha anche in questo caso ridotto da 18 a 12 il termine previsto dal comma 2 bis cioè anche qua si è detto era rimasta la questa dicitura 18 mesi no nel comma 2 bis è previsto che nei casi di false dichiarazioni di dichiarazioni mendaci l'amministrazione può annullare l'atto amministrativo anche dei corsi 12 mesi di cui al comma 1 questo l'abbiamo detto sopra che cosa dice il consiglio di stato in una recente sentenza del 2023 quando un titolo abilitativo è stato ottenuto dall'interessato in base a una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà l'amministrazione può esercitare il suo potere di autotutela ritirando l'atto stesso senza necessità che venga esternata alcuna particolare ragione di pubblico interesse che in questo in queste ipotesi si deve ritenere sussistente in re ipsa cioè è automatica non è che devo dare prova di una ragione di pubblico interesse se io ho emanato un atto sulla base di una falsa rappresentazione della realtà prospettatemi dal dalla parte dall'interessato o dal privato l'interesse pubblico all'annullamento è automatico e la pubblica amministrazione può desumere da elementi di fatto l'erroneità o comunque la non veridicità delle dichiarazioni sulla base delle quali l'interesse ha ottenuto un titolo di edilizio e quindi annullare in autotutela il predetto titolo né l'esercizio del potere di autotutela può essere paralizzato dalla mancanza di un giudicato penale che invece rileva soltanto in caso di dichiarazioni sostitutive o atti di notorietà mendaci o false guardate questo è un aspetto molto importante che dice il consiglio di stato che con una sentenza che in qualche modo integra specifica al dettato normativo dell'articolo 21 da 9 e si dice quella necessità che abbiamo visto prima di una sentenza passata in giudicato che attesta una condotta penalmente rilevante del privato riguarda soltanto il caso di dichiarazioni sostitutive o atti di notorietà mendaci o falsi negli altri casi se io rilevo che comunque il privato senza arrivare a questi aspetti penali diciamo di rilevanza penale mi ha comunque rappresentato un quadro falso della realtà quindi dichiarazioni ma false non dolosamente false erronee non veritiere comunque io posso annullare posso annullare in autotutela il predetto titolo anche anche in anche dei corsi anche dei corsi i dodici mesi un'altra sentenza interessante sempre dell'anno scorso del Tarlecce che dice che è illegittimo il provvedimento comunale di annullamento di un'autorizzazione precedentemente rilasciata in favore di un'attività economica se disposto a distanza di oltre un anno e questo anche se l'autorizzazione era stata adottata dallo stesso ufficio in violazione della normativa vigente di settore quindi la ditta ha diritto a continuare la propria attività infatti ricorda il Tarre in questo caso la tardività nell'adozione del provvedimento di annullamento non viene giustificata dal comune e quindi dimostrando la falsità della rappresentazione della realtà cioè quando quando vogliamo annullare un atto dopo i 12 mesi dopo i 12 mesi dobbiamo in qualche modo noi fornire in giudizio la prova positiva che il nostro rilascio dell'atto che quindi è nato illegittimo è stato fatto sulla base di una rappresentazione falsa della realtà da parte dell'amministrazione del privato se invece è stata proprio colpa nostra rilasciarlo perché è andato storto qualcosa nel procedimento non possiamo effettuare nessun annullamento di corso il termine di 12 mesi infatti conclude il tar tale circostanza evocata dall'articolo 21 novi es comma 2 bis della 241 avrebbe consentito al comune di superare il termine di 12 mesi così come valorizzato da ormai consolidata giurisprudenza quindi se voglio annullare un atto dopo i 12 mesi non ho scelta devo fornire in giudizio la prova positiva in giudizio perché ovviamente a seguito del ricorso del privato che comunque quell'atto era stato emanato sulla base di una falsa anche se non mendace anche se non dolosamente falsa comunque di una falsa rappresentazione della realtà da parte del privato interessato concludo infine ricordando un aspetto molto importante cioè che la possibilità di annullare il provvedimento amministrativo ci è data anche nel caso della scia sembrerà strano parlare di questo perché scia e provvedimento amministrativo sono due cose diverse ad ogni modo è chiaro che oggi è possibile perché è stato modificato l'articolo 19 comma 4 l'articolo 19 è quello della scia dalla legge Madia dalla legge 124 cosa dice questa legge 24 dice con una dizione non proprio chiarissima di corso il termine per adottare i provvedimenti di quel comma 3 primo periodo ovvero di quel comma 6 bis cioè di corso il termine per effettuare un divieto di prosecuzione dell'attività o una richiesta di conformazione nei casi meno gravi che sapete sono i due istituti tipici che possiamo applicare nei 30 o nei 60 giorni in caso di scia l'amministrazione competente può comunque adottare quei provvedimenti quindi il divieto di prosecuzione o la o la o la richiesta di conformazione se sussistono le condizioni previste dall'articolo 21 9 per l'annullamento d'ufficio quindi questo ricordiamolo che è possibile farlo a patto che sussistano le condizioni viste sopra per l'annullamento d'ufficio possiamo effettuare nell'ambito di un istruttore di una scia richieste di conformazione o di vieti di prosecuzione dell'attività anche oltre i 60 giorni o i 30 giorni previste rispettivamente per le scie di carattere amministrativo per le scie di carattere edilizio tecnico infine l'articolo 2,4 del decreto 222 del 2016 ha stabilito che questo termine di 12 mesi in questo caso decorre dalla data di scadenza del termine per esercitare il potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente cioè se avevo da quando decorrono i 12 mesi nel caso della scia decorrono dalla scadenza dei 60 o dei 30 giorni previsti per il potere ordinario concessoci nell'ambito di un'istruttoria della segnalazione certificata di inizio attività però chiaramente questo non vuol dire che avrò gli stessi poteri che avevo prima mentre nei 60 giorni nei 30 giorni posso in maniera abbastanza libera ovviamente motivata ci mancherebbe ma ho le mani più libere nel fare una richiesta di conformazione o un individuo di prosecuzione dell'attività scaduti questi termini e nei successivi 12 mesi potrò farli soltanto se darò la prova positiva di aver rispettato i requisiti dell'articolo 21 nonies cioè non è passato un anno dalla scadenza dei termini ho tenuto conto dei diritti dell'interessato e dei controinteressati o si tratta di un atto di un atto illegittimo e quant'altro quindi quindi a queste condizioni posso differire di 12 mesi il termine per poter effettuare nell'ambito di un'istruttoria di una scia un divieto di prosecuzione dell'attività o una una richiesta di conformazione io con questa slide ho concluso a questo punto rispondo all'unica domanda che vedo è arrivata che dice nonostante la norma sulla mancata espressione del parere o al di fuori dei tempi massimi previsti sembra chiara se assume il parere favorevole sembri chiara se assume il parere favorevole non mancano amministrazioni precedenti che non assumono una decisione finale come mai questo continua a succedere forse lo stesso richiedente che non ha interesse a un'autorizzazione senza i pareri favorevoli espressi allora la risposta potrebbe essere in qualche caso anche sì affermativa però il fatto è che io se sono un responsabile del procedimento ogni qualvolta devo chiudere un procedimento lo chiudo noi ci troviamo sempre lo sappiamo bene tra l'incudine e il martello tra l'incudine della degli enti che magari si protestano e che dicono come ti sei permesso di rilasciare una determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi senza il mio parere e il martello dell'avvocato amministrativista del privato che ci minaccia di citarci in giudizio per danni da ritardo quant'altro io sinceramente tra l'una e l'altra preferisco sempre seguire la legge quindi se la legge mi dice che in quel caso i pareri tardivi sono inefficaci che tutti i pareri non solo ma nell'ambito della conferenza dei servizi sia semplificata che contestuale il parere deve essere sempre espresso in conferenza in maniera chiara motivata e quant'altro io per non saperne leggere né scrivere taglio corto è terminati a meno che non si tratti ma sono casi rari insomma non si tratti di pareri previsti come indefettibili dalla normativa comunitaria taglio corto e concludo con la con la emanazione con la con la considerazione che quello è un parere favorevole senza condizioni e tra l'altro chiudo in quel caso il il vantaggio è che dalle volte successive ci sarà una maggiore attenzione una migliore lettura dell'avviso di indizione quando procederò a una nuova nota di indizione magari quell'ente quegli enti che non avevano risposto si renderanno conto che è opportuno se non altro rispondere nei termini fare una richiesta di integrazione documentale eccetera altrimenti dall'altra parte c'è qualcuno che conosce la normativa ed è intenzionato ad applicarla in maniera corretta io ho terminato vedo che non ci sono altre domande quindi non ci sono altre domande ma invito appunto i partecipanti semmai posso anche attivarvi il microfono se non volete scrivere in chat vi lascio un minuto per per scrivere o semmai alzare la mano e e porre una domanda al dottor Rocca Salva che nel frattempo ringrazio per la disponibilità per il tempo e per il materiale che vi informo sarà a disposizione insieme alla registrazione appena possibile appena insomma riusciamo a scaricarlo nella sezione territorio in rete vi sarà poi inviato successivamente il link alle mail fornite in fase di registrazione mi sembra che non ci siano appunto interventi né in chat né con mani alzate quindi ringrazio tutti della partecipazione ringrazio ancora una volta il dottor Rocca Salva e grazie a voi appuntamento al prossimo approfondimento che vi comunicheremo sempre nella solita modalità grazie a tutti per la partecipazione e buona giornata arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti